Noi non dobbiamo prendere in giro la gente, non dobbiamo fare demagogia, non possiamo però neanche, come dire, attribuire a chi è nato in quel territorio la responsabilità di essere nato. Allora, sappiamo che è un territorio difficile, qual è l'alternativa? Dobbiamo evacuare tutta l'area interessata al Vesuvio dai campi flegrei? Allora, manteniamo una posizione di grande equilibrio e di grande misura, è chiaro che dobbiamo evitare di sovraccaricare di nuovi insediamenti abitativi, questo è ragionevole, però intanto cominciamo a garantire la sicurezza per quanto possibile degli abitanti. Sicurezza significa centri di accoglienza attrezzati, quindi dobbiamo dare una mano ai comuni anche dal punto di vista finanziario oltre che tecnico per avere dei luoghi nei quali accogliere in caso di evacuazione i cittadini. Poi ovviamente dobbiamo fare investimenti per le vie di fuga. Poi ovviamente dobbiamo fare investimenti per le vie di fuga.